Buongiorno e ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento del mattino, la rassegna stampa. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo venerdì 19 luglio. Andiamo come sempre a dare un'occhiata alle prime pagine per vedere quali sono le anticipazioni, quindi quali sono i temi caldi, gli argomenti principali di questa giornata. Come sempre partiamo dai quotidiani siciliani, partiamo dal quotidiano La Sicilia, Mar Nero questo uno dei titoli e certamente non è una notizia positiva per la nostra isola. In Europa Goletta Verde in Sicilia 5 spiagge su 25 sono a rischio per la presenza di troppi batteri. Insomma per un'isola come la Sicilia, come la nostra isola che vive anche e soprattutto di turismo, questi certamente non sono dati confortanti. I nuovi equilibri in Europa, Meloni lo strappo imbarazza Tajani, no da parte di Giorgia Meloni e quindi di Fratelli d'Italia alla conferma di Ursula von der Leyen. L'uscente comunque eletta, la premiera rilancia, l'Italia avrà un ruolo. Si spostiamo invece negli Stati Uniti, Biden al trategola è positivo al Covid e adesso il ritiro dalla corsa alle presidenziali è più vicino. Palermo, parliamo di cronaca, impediscono alla figlia di studiare per non offendere la fede islamica. Altre notizie in prima pagina sul quotidiano La Sicilia, Mazzetta Sicula con danni pesanti per i re dei rifiuti, questa la sentenza. E poi la retata, ponte e olimpiadi tra gli obiettivi dei clan mafiosi. I veleni al CSM lascia la consigliera in quota, la russa, mentre lo scandalo, scrive la Sicilia. Arresto bis per la governatore Toti, finanziamenti illeciti con spot di S. Lunga. In taglio alto spazio anche alla calcio, Serie C, il Catania rafforza l'attacco preso Filippo D'Andrea. L'anno scorso segnò 16 gol, dunque un vero e proprio bomber, dunque un colpo importante per i rossazzurri. Giro delle città, partendo da Catania, finge gravidanza e nasconde la cocaina. Smaltimento rifiuti al Via La Campagna, sempre a Catania. Da Catania a Paternò voleva darsi fuoco, si consegna ai carabinieri. A Giardini Naxos invece a luglio è occupato il 90% dei posti letto. Lasciamo il quotidiano La Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia. Oggi un anniversario importante, il ricordo della strage di Via D'Amelio. Vedete in questa foto Paolo Borsellino, 32 anni in attesa però della verità. Come detto, oggi l'anniversario della strage in Via D'Amelio, previsti dibattiti e manifestazioni con gli studenti. In serata alla fiaccolata, l'omaggio del ministro Piantedosi e poi concerto al Teatro Massimo. Queste le iniziative a Palermo, ma ovviamente oggi sarà una giornata di ricordo in tutta la Sicilia e anche in altre zone d'Italia in ricordo della strage di Via D'Amelio. La nuova Forza Italia riparte dalla Sicilia a ottobre, a Santa Flavia, la prima convention del dopo Berlusconi, l'asse di ferro Tajani-Schifani. Assemblea regionale De Luca è il più ricco davanti ad Agostino e Miciche. Si tratta dei redditi dichiarati dai deputati regionali. In chiesta a Catania e la PM chiede il giudizio per San Martino e altri 26. E poi Ursula von der Leyen rieletta, dunque confermata a capo della Commissione europea. Meloni però vota contro, centrodestra spaccato in Europa. E questa è una notizia da sottolineare in vista poi di futuri equilibri. Faceva favori a Messina Denaro, è stato arrestato Giuseppe Di Giorgi, dunque uno dei favoreggiatori dell'allora latitante Matteo Messina Denaro. Violenza sessuale, condannato a dieci anni, un imprenditore di Gangi. E poi termini dall'addio a Marco, morto a 25 anni. Purtroppo una delle tante troppe vittime della strada. Un altro giovanissimo, un ragazzo, vedete, di 25 anni. Andiamo in taglio alto, Andrea Bocelli, festa per 30 anni di musica, parata di star sul palco e poi corsa alla Casa Bianca. Siamo quindi negli Stati Uniti, Biden colpito dal Covid e adesso valuta seriamente il ritiro. Una tragedia invece nel veneziano, dimenticata in auto dal papà, morta di caldo una bambina di un anno. Davvero una notizia terribile, una tragica distrazione, scrive in questo caso il giornale di Sicilia. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, restiamo nell'isola con la Gazzetta del Sud. Tra le altre cose c'è spazio per la cronaca, mafia e appalti. Due arresti, Milano, inchiesta della Dia, emerse collusioni con il clan dei barcellonesi, in carcere gli imprenditori messinesi, Scirocco e Bontempo. Ursula von der Leyen invece rieletta, Meloni vota contro, centrodestra ha spaccato, la presidente della Commissione europea confermata con 401 preferenze. Oggi vedete molte notizie che riguardano l'estero, l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, con Biden che valuta il ritiro, il Covid che ha colpito il capo della Casa Bianca potrebbe segnare una svolta decisiva nel ritiro di Joe Biden nella corsa contro il rivale politico Donald Trump. Quasi rassegnato, ha già chiesto ai consiglieri se Kamala Harris può battere Trump nelle elezioni, poi vedremo quali saranno le decisioni. Ovviamente vedremo se effettivamente Biden deciderà di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Andiamo avanti con la nostra rassegna, restiamo ancora in Sicilia con la prima pagina dell'edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica, se è islamica, non studiare, lei si ribella. La ragazza denuncia i genitori, fa gli esami di maturità e viene poi accolta in una struttura protetta. Ma che divieti, soltanto pregiudizi, io musulmana mi sono laureata. Vedete questa una testimonianza, in questo caso un'altra sezione dedicata a questa notizia principale. E poi l'anniversario della strage di Via D'Amelio, Borsellino, la memoria amara, tante iniziative ma separate, piante dosi e le autorità alla Caserma Lungaro, le agende rosse in Via D'Amelio, Arianna Meloni alla fiaccolata della destra, vandalizzata per la quarta volta la pensilina dedicata alle donne. Mafia, indagini insabbiate, accuse, Annatoli, contatto, testimoni. Le celebrazioni ancora legate al ricordo di Borsellino e di tutti gli altri agenti che persero la vita in questa terribile strage mafiosa. Don Scordato attacca anziché verità imbrogli su imbrogli, queste le parole di Don Scordato. E poi un allarme legato alla siccità, agriturismo, l'estate più nera, orti a secco e disdette in serie. Questo è certamente un problema grave un po' per le attività commerciali, in questo caso si parla di agriturismo, ma la siccità sta creando certamente molti problemi a diversi settori qui in Sicilia. Lasciamo Repubblica Palermo, restiamo sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale che invece dedica ampio spazio alla corsa alla Casa Bianca con Biden a un passo dall'addio. Le pressioni dei leader democratici e i sondaggi negativi spingono il presidente a rinunciare alla candidatura, l'annuncio è atteso a breve, entro 72 ore. Si lavora alla successione, in pole Kamala Harris in ticket con un uomo, ma avanza l'ipotesi di affidare la scelta ai delegati della convention di agosto. Trump intanto incoronato a Milwaukee annusa la vittoria, Dio ecco me dice il tycoon, riunificherò l'America. Queste le parole di Trump dunque che sembra quasi certo di vincere queste elezioni. L'Europa invece di Ursula von der Leyen, Meloni le vota contro e si isola, rieletta come detto la presidente della Commissione europea. Da Repubblica alla prima pagina della Corriere della Sera, questa vedete la notizia di apertura, bis di Ursula, senza però i voti di Fratelli d'Italia. Von der Leyen rieletta la guida della Commissione europea, Giorgia Meloni ha votato contro ma comunque parla di rapporti non compromessi. È stato decisivo per la conferma di Von der Leyen il sostegno dei Verdi, dal Green Deal all'immigrazione, il piano per il secondo mandato, i patrioti bocciano invece il generale Bannacci. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, vediamo cosa ci propone stamane in primo piano e in prima pagina il quotidiano. La stampa, si parla ancora di Europa, Ursula Bis, Meloni sta a guardare. Questo il titolo confermata, la presidente della Commissione europea con 401 voti, almeno 50 i franchi tiratori, le tre anime del governo italiano divise a Strasburgo. Quindi si parla soprattutto di un centrodestra italiano che si presenta diviso a Strasburgo, quindi in Europa. Abbiamo visto prima Verdi decisivi per la Von der Leyen, la premiera i suoi. Siamo contro ma non attacchiamola, questo il messaggio di Giorgia Meloni, o meglio la linea dettata dalla leader di Fratelli d'Italia. Mentre la Lega parla, vedete, di un popolo che è stato tradito dopo le recenti elezioni europee. Procediamo con la nostra rassegna, vediamo adesso la prima pagina del quotidiano Il Giornale, anche qui la nuova Commissione europea con Ursula, Verde e Meloni. Vedete che si sfila. Von der Leyen rieletta con il sì degli ambientalisti, Fratelli d'Italia vota contro, la Premier rapporto non compromesso, mentre Vannacci viene bocciato dai patrioti. Elezioni statunitensi, Biden ha un passo dalla rinuncia, ma lui resiste e sfida pure Obama. E poi l'inchiesta in Liguria sul governatore Toti, schiaffo dei magistrati proprio, vedete, a Toti, nuovo ordine di carcerazione, stupito dai tempi, dice appunto la Presidente Toti, sinistra invece in corteo. Questa è la notizia, poi chiaramente tutti gli approfondimenti all'interno dell'edizione odierna del giornale. Ci spostiamo invece sul Fatto Quotidiano, anche qui in primo piano, ve lo vedete, c'è proprio lui, Toti, te ne vai o no? Questo il titolo scelto dal Fatto Quotidiano, piazza e arresti, nuova ordinanza di domiciliari per Toti, fondi lecidi da esse lunga, la folla con Schlein, Schlein, Conte e non solo, chiede le dimissioni del governatore. Lasciamo anche il Fatto Quotidiano, ci spostiamo adesso sulla prima pagina del Quotidiano Il Messaggero, in primissimo piano una foto esultante, vedete, di Ursula von der Leyen e il suo bis senza Giorgia Meloni. All'Europarlamento, 401 voti da popolari, socialisti, liberali e ambientalisti per la conferma della Presidente, al lavoro con chi mi ha sostenuta queste le sue prime dichiarazioni. Stati Uniti, Biden vicino alla resa, si ritirerà nel weekend, questo perlomeno dicono le previsioni, il Presidente nella morsa di Covid e sondaggi, mentre Trump corre e continua ad aumentare, ad accrescere il consenso tra i cittadini pronti poi eventualmente ad eleggerlo. Il papà dimentica in auto la figlia, morta a un anno per il gran caldo, tragedia a Venezia, l'uomo era al lavoro. Chiaramente una famiglia distrutta da questa terribile vicenda. Siamo sulla prima pagina di Libero, elettori a destra, Bruxelles invece va a sinistra, titola Libero, che parla di un bidone verde. Von der Leyen non ha i numeri e per fare il bis in Europa apre agli ecofanatici. Fratelli d'Italia vota contro, le follie ambientaliste le pagheremo care. E poi tutte le varie sezioni, vedete, dedicate proprio alla riconferma di Ursula von der Leyen. Occhio al portafoglio, dalle auto al mattone, ora arriverà il conto, il PPS si dimentica le promesse elettorali, insomma, tutte poi sicuramente ampio spazio all'interno di Libero. in edicola stamane. L'inutile piazzata dei manettari antitoti, la forca non paga, sotto tono la manifestazione di Genova con Elislein, Conte e Fratoianni. Nuova misura cautelare intanto per il governatore con il CSM che apre un fascicolo. Parliamo di sport, andiamo a vedere come tutte le mattine le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Tanto calcio, tanta Juve stamane sui vari quotidiani. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport. Dicevamo tanta Juve, Motta altri tre, la Juve compra ancora. Vediamo quali sono i nuovi obiettivi del club bianconero, Galeno, Copmeiner e Todiboh, ma i rinforzi potrebbero essere di più. Apriamo un bel ciclo. Queste le parole di Tiago Motta che ovviamente non vede l'ora di cominciare. Dalla Gazzetta al Corriere dello Sport, la voglia Motta. Questo è il titolo. Parla l'allenatore bianconero, parte un'era nuova, niente alibi. Cabal intanto firma fino al 2029 con Tiago Motta che sogna, vedete, di aprire un ciclo con la Juve, mentre giunto li saluta, Rabiot e quindi il centrocampista francese è pronto a lasciare i bianconeri a parametro zero e quindi è una risorsa importante sul mercato. Vedremo poi chi riuscirà ad aggiudicarsi le sue prestazioni. Chiudiamo con tutto sport, anche qui in primissimo piano, il nuovo allenatore della Juve, Tiago Motta. Devo vincere? È bellissimo, ha dichiarato l'ex Bologna. Motta lancia la nuova Juve, taglionetto con Allegri, nessun titolare, largo ai giovani, contano idee di gioco e disponibilità, il gap con l'Inter, non pensiamoci più, è il passato. Queste dunque le parole di un agguerrito Tiago Motta, pronto a iniziare stavolta ufficialmente questa avventura con la Juventus. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa odierna, abbiamo fatto e concluso il giro delle prime pagine, non si ferma ovviamente l'informazione sui nostri canali, ma partiamo con tutte le edizioni di Spazio Notizia per aggiornarvi lungo questo venerdì e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi, a dopo. Grazie per la visione!